ciao ragazze io vado ciao hai visto la nuova borsa di chiara si bella ma io non la comprerai mai ma perché perché costa un occhio della testa costa un occhio della testa vuol dire costa troppo e tu conosci altre espressioni altri modi di dire particolari in italiano scrivili nei commenti